Una buona serata a tutti amici di Super J. Aria molto fredda proveniente dalla Russia europea e dalla Scandinavia settentrionale si è incuneata nei Balcani ed è pronta ad invadere il Mediterraneo meridionale. La sua traiettoria bassa impedirà un coinvolgimento di buona parte dell'Italia ed infatti solo al centro-sud avremo temperature in diminuzione e fenomeni deboli limitate alle estreme regioni meridionali. In Abruzzo nello specifico nella notte e nella prima parte di domani giungerà aria più fredda dai vicini Balcani che entrerà in contrasto con il mare Adriatico favorendo nuvolosità irregolare e forse qualche isolato piovasco sugli Appennini, pienamente soleggiato invece nei settori aquilani. La ventilazione insisterà di moderata intensità sulle coste dai quadranti nord-orientali ed il mare potrà divenire anche molto mosso. Le temperature minime di questa notte saranno comprese tra meno 2 e 8 gradi e le massime di domani stazionario in leggera diminuzione comprese tra 5 e 10 gradi. Un buon proseguimento di serata.